Vincenzo! Oh, no, 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 no. Vincenzo! Colpito! Versaglio colpito! Figuitelo che devo mettere il gap, per te lo metto. Le forze nemiche hanno con cui... Colpito! Ola non so, non so non so sta arrivando pure ricotto in cielo 310 400 metri bersaglio colpito colpito bersaglio colpito bersaglio colpito in cielo 340 400 metri colpito 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 colpito